Hola Angel! Hola chichi, hola chichi, ciao belli, ciao belle! Allora, scusate la faccia, però questo è un video inaspettato che ora mi usino, cioè c'ha fili da pesca ovunque, io rimango incastrata questo è un video inaspettato perché, come potete vedere, la mia bellissima faccia cioè io sono truccata da stamani mattina e stavo aspettando un pacco, non sapevo se avrebbe arrivato oggi però siccome mi è arrivato adesso, il trucco proprio schifissimissimo non faceva ho detto, no ma abbatate questi capelli sono orribili non ho mai fatto questi video, questo genere di video e quindi ho detto perché no, famolo allora, è un video prima impressione oh 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 oh, perché per qua allora, dunque, non l'avevo mai fatti perché comunque sia, quando apro i prodotti raramente raramente sa, l'apro da me fra l'emozione e tutto e ora sì le apro da sola invece oggi ho detto perché no perché non farlo ok stringi cami allora sono fericissima perché innanzitutto io non sapevo neanche se ci fosse questa nuova collezione perché comunque sono ancora rimasta un po' con indietro ho visto per caso appunto il video di Asindi che la promuoveva e niente nella palette è l'unica cosa ho visto perché poi sono andata un po' avanti sono andata direttamente sul sito a vedere e quando ho visto i lip stavo per morire allora, visto che tutte le volte che escono queste venedette io delle mie bambolini tutte le volte che escono queste nuove collezioni io non ho mai il dinero pronto ho detto ma fantastica stavolta ce l'ho e non lo posso perdere anche perché altrimenti vanno sold out in tempo zero allora la palette è molto bella devo dire che come colori non mi dispiace però ultimamente le ho comprate un po' visto che non voglio più spendere così cosa ho fatto? la palette non l'ho presa e poi sono andata un'altra cosa che per esempio mi piaceva tantissimo era questa camicetta per l'appunto orianzi dovrebbe essere di Aline l'ho vista lì sul coso mi ci stava bene ho detto non porto mai le camicie mettiamocela poi sono molto vestita da casa e ho comprato pure gli occhiali a 5 euro stamani e l'altra cosa che mi piaceva tantissimo era il pottino con con l'illuminante però 10 euro non era neanche tanto però insomma la cosa che mi ha colpito di più erano loro volevo prendere porca miseria ladra le ciglia finte perché le devo provare queste ciglia finte sono belle le vedo però bimbi lì per lì avevo questi di soldi e quindi questi ho preso allora io non l'ho ancora aperto e sto già a padella fortunatamente avendo mangiato da poco non c'ho neppure il lip allora io l'ho preso tutte e due un colore mi fa panio cioè oh mio dio comunque apriamo dai perché sennò mi sparlo in cialdere allora questa naturalmente è la scatolina di Mulac me la tengo perché è troppo bellina e io penso comunque Mulac sia un brand molto buono un brand io ho i rossetti a suo tempo della Mulac e devo dire che sono comunque molto molto validi il lip che mi stavo regalando perché avevo quello vecchio però ora l'ho giù mi fu regalato da Joja mi sembra scusatemi se sbaglio da qualcuno di voi ma penso Joja appunto l'ultimo quello che piaceva a me che confrontandolo che poi me lo mandò Vanessa quello vecchio quello vecchio è vero non ha tenuto per niente però come colorazione bene o male siamo lì però devo dire che sono davvero validi io ho speso naturalmente le 10 euro 10 euro del prodotto 10 e qualcosa e è più boh boh le 4 euro di spedizione allora non erano sold out io pensavo fosse già un botto di roba sold out quindi ho detto no via un po' se ho rischiato di trovarlo sold out perché poi da quanto so penso quando è così sono edizioni limitate e come se no faccio come la paletta di Kat Bondillo che ha con tasca e ci sformo perché ma poi ora lo posso fare cioè nel senso a parte che veramente se volessi spendere allora non ci perdiamo in ciance perché sono 5 minuti e 17 eccoli qua quindi proprio primissimissimissimissimissimissima impressione peccato lo vorrei pubblicare subito ma non posso perché adesso vi devo fare il video di intro di ritorno e siccome lo voglio fare anche con determinate cose dette mi dispiacerebbe ora mettere questo magari tanto lo metto se qualcuno già l'ha messi chi se ne fega e chi si è visto si è visto allora Asilium no Asilium non Asilium Ausilium e Fetish allora non mi ricordo mi sembra che quello più bello è Asilium non saprei Fetish apriamolo di qua ecco invece Fetish allora questo a vederlo qui sembra un nude molto simile a allora lo devo aprire devo aprire e prendere l'altro che mi piace tantissimo che già Vanguard Vanguard mi sono ricordata allora Vanguard sta qua aspettate eccolo Vanguard questa sarà naturalmente per esempio un primo impression first impression avete idea che sto imparando l'inglese se volete credere allora naturalmente sono carinucci carinicci carinussi carinelli anche perché hanno questo pack diverso allora questo qui allora questo è Vanguard quello vecchio e questo è Vanguard quello nuovo allora esteriormente quello è quello vecchio e questo è il nuovo di Vanguard e questo è quello nuovo come vedete è una tonalità fra tutti e tre praticamente allora adesso vi faccio vedere lui io appena l'ho visto oddio a parte l'odore è fantastico è stato amore a prima vista vediamo se riesco magari è stato amore a prima vista perché c'è questa punta di grigio naturalmente come tutti i prodotti che arrivano a me eccolo qua bello vi faccio vedere voglio mettere a confronto anche ai Vanguard visto che ce l'ho qui allora questo è quello vecchio come consistenza è molto più liquido come prodotto e comunque dura molto meno allora questo è Vanguard vecchio come vedete è un po' più scuretto vedete rispetto a questo più nuovo e questo è l'ultimo Vanguard quello che dura un botto quello che è fantastico e che ha appunto anche un tante texture meno liquida eccolo qua allora come colorazione devo dire che i Vanguard comunque si somigliano molto ok eccoli qua allora so tre tonalità diverse bellissime cioè io le amo ehm l'ultimo periodo stavo perché vedete bello il Vanguard nel mezzo comunque è una tonalità più violace ancora allora adesso ci proviamo questo devo dire che io ultimamente il Vanguard quello vecchissimo non regge veramente veramente niente se ve lo dico io che sto abituata ai prodotti di ebay è tutto un dire non regge niente però allora intanto provo questo ho delle labbra schifose ultimamente se che sono brutte ok sentite che sembra che sfrega nella carta vetrata eccolo qua ok e questo è costui ora questi si sono praticamente già seccati e questo è fetish abbiamo detto vabbè sono troppo bianca non ce la voglio stare così quindi devo dire che la colorazione non mi dispiace allora io sto notando ultimamente che ho dei piccoli problemi nel senso con questi prodotti perché perché ho la colorazione delle mie labbra il tono del colore delle mie labbra molto più scuro rispetto a dei colori normali questo cosa vuol dire vuol dire che quando le persone se le vanno a dare mi sale mi scende la sedia che quando le persone se le vanno a dare e gli danno quel bel tono sulle labbra che magari come mi spiego specialmente nude che la gente se li va a mettere e gli viene quel bellissimo colore ok a me non me lo fa perché ho il tono delle labbra molto scuro cioè non mi fermo un attimo c'è la vitrice e non mi fermo un attimo ok ho il tono delle labbra molto molto scuro di mio e quindi la colorazione tende ad avere un leggero colore più scuro mentre magari chi ha le labbra di un bel colore nude o comunque molto più chiaro il colore che è andato a dare sulle labbra è molto molto diverso allora il prodotto si è seccato e il colore è questo ora ve lo vorrei far vedere per bene ma sembro vero? ok allora è un bellissimo nude allora devo essere sincera è questo io credevo che avesse una tonalità un po' più scura di grigio cioè che somigliasse molto di più a questo invece no vedete? allora vi voglio far notare questo se ci fate caso non so come cacchio mettermi perché dovrebbe essere che ho messo l'ultima questa quindi è questo vedete? vedete la colorazione dalla mano alle mie labbra è molto diversa perché appunto ho queste labbra molto scure e quindi il danno è questo vabbè comunque colore bellissimo devo dire che non mi dispiace a me questi colori mi fanno morire mi piacciono mi piacciono tantissimo e niente bello molto bello magari proviamo a darci pure un'altra perché si stratificano ti pareva che fossi andata dritto si stratificano pure bene vedi le cose della pesca del mio cugino ok e questo è fetish ma che cacchio ho fatto ok e poi andiamo a vedere Asylum Asylum allora questo inizialmente non lo volevo prendere l'ho preso perché ultimamente sto anche notando che la mattina o comunque ora poi se ricomincerò ad andare al lavoro come facevo la mattina mettersi colori troppo pesanti non mi sta bene c'è nel senso come questi qui che a me piacciono questi rossi accesi questi prugnoni scuri o il viola scuro è per questo comunque che mi sto scortificando o scorticando scortando di questi colori qua però e quando c'è questi colori qua dico no cosa faccio lo compro ma ce ne ho mille vaffanculo le prendi perché poi sono dei colori che secondo me sono bellissimi poi c'è basta meritano e quindi ho detto senti ma fantasca per quanti euro non mi ricordo quanti euro comunque tanto lo sapete più o meno il prezzo mi sembra 13 o 13 o 10 tutto scontato non me l'ho riorto non mi fulminate allora eccolo qua questo è il colore vi faccio lo swatch e poi sono morbido sono stati veramente bravi hanno fatto una scioffecata con la prima mandata ma poi sono stati divini sono messo veramente dei colori belli portabilissimi fatti bene come prodotto e come prezzo anche se comunque vediamo scusate abbiamo 7 ml di prodotto cioè ma voi quando pensate di finire gli 7 ml di prodotto cioè si li finite ma Cristo ve le dovete dare tutti 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 i giorni allora il colore è questo ed è fantastico la vi spiego perché mi piace a me piace perché nonostante sia un colore rosso cioè non rosso scusatemi è un marrone ed è un colore mattone a me i marroni mattone mi piacciono un sacco e devo dire che comunque di questa colorazione non ne ho granché sì ho questi rossi fuoco parecchio fuoco nel senso il rosso così no i rossi tipo questi rossi scuri borgogna no non parlo i rossi borgogna quelli parecchio scuri che comunque sono dei bellissimi rossi che però ecco un bel mattone così io devo essere sincera guardate come è ora che si è un po' seccato io i mattoni così non ce l'avevo e questo è un vero 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 color mattone cioè non c'è color mattone più bello di questo con appunto una tonalità scura di penso che ci sia un tot di grigio anche qua comunque allora vado a prendere ok me lo tolgo e poi metto questo sopra ciao vai kami eccomi allora ho acceso pure la luce perché non sa che si vede un po' meglio allora non è una caccola ok allora proviamo a darci il nostro mattone sulle labbra naturalmente prendendo il nostro Jeffree Star e facendo la figa perché io non posso io voglio fare la strafaica e poi allora a parte vi devo parlare di alcuni canali e di un po' di cose vi devo parlare ci mette la figa allora questo è comunque il nostro ora vi tengo un po' sulle spine come fanno le vere youtube per ottenere visualizzazioni allora dov'è il ventaglio ecco il ventaglio qui si ringrazia il mio Kree I love you Kree eccoci ora si ok allora andiamo a fare la magia cavolo ero la prima a farveli vedere porca miseria non ho visto altre youtuber recensire per adesso uffa sarei stata la prima per la prima volta dai basta adesso è perché mi sto organizzando eh non è che perché non voglio tornare non pensiate e poi perché mi sto organizzando perché momentaneamente sono senza cioè il mio telefono non va più se non c'è i miei a casa qualcuno non posso registrare e non è possibile cioè anche questo io quando voglio registrare devo registrare Camilla hai finito? sì meno male o comincia allora naturalmente senza matita certo naturalmente se vi lascio questo davanti vedete una semplicina un po' Qu'è idiota? Ok Ci dovremmo essere dato abbastanza bene Leggermente fuori per fare le labbra Ok E questo è il colore, vedete? Allora, adesso sono pure secchi, vedete questi Allora, questo è il primo Vanguard Che era di quel grigio che io amavo Infatti se ci fate caso Io Tempo fa quando mi arrivarono Fesci un confronto e dissi, vabbè, sono identici Non è così fondamentalmente Perché se vedete il vecchissimo Vanguard È proprio grigio Cioè è proprio quel colore grigio che a me fa morire Questo non si è ancora seccato Allora è un po' più Allora, voi non avete idea Allora Questi sono i Vanguard e questo è l'ultimo Che ancora non è secco Cioè gli altri due sono già secchi E questi no Tendono ad essere un po' più morbidi Comunque il vero Vanguard è grigio Poi questo è molto 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 simile Però se ci vedete Questo c'è più una punta di rosa antico E qui è più Una rosa più scuretta Non ve lo so descrivere perché so Vedete? Molto molto simile E questo è il nuovo Quindi niente Niente da dire Colori bellissimi Veramente la Sindina È una grande Ci lascia sempre a bocca aperta Ho dei capelli che fanno veramente recere E ridere i polli Se passo davanti a un pollaio Sentite sguazzare e ridere Stanno ridendo di me Cioè ho dei capelli for schifo E devo dire Che a me la Mulac piace A bestia C'ho una terra Mulac regalata Mi da Silvana credo Scusate Mai utilizzate terra Mulac Non ho Illuminanti Mulac Ho la palette Sempre regalata da una di voi Una palette in crema di Mulac Allora io quando dico regalata da una di voi Effettivamente se ci pensate bene Mi succede spesso Che voi mi regaliate dei prodotti Però figliole Cioè a parte che io mi rendo conto Che non lo fate con tutte Alle altre gli arrivano dalle aziende A me mi arrivano da voi E vi posso garantire che è tutta un'altra storia Cioè a me un prodotto inviato da un'azienda Non me ne può fregarvi meno A differenza di un prodotto inviato da voi Che è tutta un'altra storia Io vi giuro che non mi permetterei Mamma avete regalato un cellulare Cioè io me lo ricordo Questo Quindi io ho Solo da inchinarmi a voi Lo sapete come la penso Comunque Sarà un video che tratterò questo Perché una ragazza con cui ho parlato E comunque con cui mi scambiavo delle idee Prima di partire Anche lei mi ha detto Guarda i primi tempi che comunque guardavo i tuoi video Mi veniva da dire Ma come Questa si fa regala tutta sta roba E poi lei mi fa Anche se appunto poi è stata lei ad inviarmi un pacco Mi fa Sono stata poi la prima a pensare questo E la prima anche a dire Ma lei non mi mette la pistola Alla nuca a nessuno Cioè allora È normale che se io ho un canale di make up E vedo un prodotto che mi piace Vi dico ragazzi Ho visto un prodotto che mi piace È normale Poi se voi decidete di regalarmelo Quella è una cosa Che probabilmente voi fate Perché io vi regalo qualcosa È uno scambio Anche se io mi sento Prendemente sempre in debito E spero che questo voi lo capiate Però Sappiate che Il rapporto che comunque si è venuto a creare Vi posso dire che Un'azienda che mi ha chiesto di collaborare Mi ha detto questo Ha detto il rapporto che ti hai con le tue scritte Ci ha particolarmente colpito E cioè E questa è una cosa che Cioè a me Che Urban Decay Nete Cosmetics Maybelline e NYX Non mi inviano la roba Non me ne può fregare De meno Io ora ho i miei soldi Prima ce l'avevo pochi Però io se volevo qualcosa Comunque bene o male Mi sono sempre arrabattata Certo magari Prima non avevo la possibilità Di spendere 40-50 euro Con la palette Per tutta una serie di cose Ora ce l'ho E la palette di Jeffree Star Me la sono regalata E me la sono voluta regalata Questi ho speso altri 30 euro Ma non mi sono voluti regalare È una soddisfazione Mi sto rendendo conto comunque Che purtroppo A parte che ora ho i trucchi Alla fine mi rompo i denti A forza di batterceli A parte che adesso Non ho proprio la Lo spazio necessario Capito? Perché io Cioè tutti i miei trucchi Ora qui non ce li potrei neanche mettere Guardate dal secco come è Bellissimo È veramente bellissimo E sto cercando di Perché non riesco neanche Ad utilizzarli Poi specialmente ora Che non sto facendo video Io non mi trucco neanche Cioè a parte farmi A parte farmi la base Farmi le sopracciglia Mettermi dei rossetti Ciglia finte Oggi ho l'eyeliner Per caso Perché ho comprato Quello della essence Lo volevo provare Ma io altrimenti Non mi trucco Quindi c'è il canale youtube Comunque il canale a me Mi serve anche appunto Per utilizzare al massimo I miei prodotti No? Però vi garantisco Che Sto cernitando Non si dice assolutamente Sto facendo una cernita Su quello che comprare O meno Non voglio Stracomprare Per stracomprare Certo Un po' di acquisto compulsivo Ogni tanto fa bene Però Anche di questo Vorrò parlarvi Perché Oramai è Una cosa Prima io ci avevo vestiti Prima ci aveva vestiti O le donne Specialmente le scarpe Ci sanno queste cose No? Però veramente Adesso il marketing È un business Cioè Come basta vedere Quante palette Escono E quante collezioni nuove Escono Questo ti fa capire E quante ne uscivano prima Comunque Io adoro i miei trucchi Io amo il make up Amo voi Che siete la cosa principale Che mi spinge Continuamente A fare video E tutte le volte A tornare E con questo Chiudo Perché stavamo parlando Di Mulac Allora Questi Questi Sono I nuovi rossetti Velvet Losh Tietta Divina Questi sono Gli ultimi Velvet ink Della Mulac Appunto Non sto a rompervela Troppo sul Packaging Perché a me Ste cose Tanto ne vedrete migliaia Io vi faccio Semplicemente Vedere questo Che la scatola È così Anche la Sindina Mi sembra Abbia detto Che abbia puntato Molto sul nome Niente di più Quindi tutto viola Mi è piaciuto molto Questa cosa Che l'abbiano fatta Nel senso di circo Perché a me Il circo Non con gli animali Perché io circo Con gli animali Le odio Però il circo Lo dimora Orfeo Comunque quelli lì Mi siamo Orfeino Come si chiama Quello lì Con tutti Scusate se mi tocco Le pocce in continuazione Ma io non avendole mai avute Ora oltretutto Poi me le vedo Cioè capito Circo Solo Come si chiama Dai quello con Tutte le persone Bellissimo Poi a differenza Appunto degli altri Abbiamo L'impugnatura qua Che Prima Con la scrittina Mulac E con tutto Questo ricamino Ora c'è La scrittina Mulac E questo ricamo Fatto in dorato Ecco Poi per il resto Sono identici Eccoli qua E basta Devo dire Che Come texture Come vi ho appena detto Ora per esempio Sono tutte e tre asciutti Ma questo qui L'ultimo Tende comunque Vedete Guardatemi Mi lascia Il Insomma Lascia Dell'eccesso Perché è molto più morbido Infatti vedete Guardate Questi sono asciutti Questo No Questo Lo stesso Vedete Quindi è una questione Di texture Probabilmente Sono molto più cremosi Comunque sulle labbra Sembra parecchio asciutto Ora non so se è una questione Di E comunque Non l'ho provati Allora Io non è che metto La bocca a culo Perché mi garba Mettevi la bocca a culo Di gallina Soltanto Avendo le labbra Minuscole Per farvi vedere Un po' meglio Il colore Devo cercare Un attimino Diseinerle Così Per farvelo vedere Tutto qua Comunque Si è un color mattone Diciamo Ma non è un color mattone Perché quando si secca Non è mattone Ma è un rosso Fantastico Che devo dire Che è un rosso così Visto che io odio Non odio Però io non mi metto I rossi accesi Un rosso così Devo dire Che è portabilissimo Anche la mattina Perché non è un rosso Cioè Con un trucco Molto leggero Secondo me È un rosso Perfetto Anche per la mattina E non solo Per la sera Quindi Entrambi Favolosi Devo dire Che sono rimasta Molto 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 Contenta Grande Mulan Va bene Bamboline Io spero Di avervi tenuto Un po' di compagnia Naturalmente Abbiamo spiattellato Per l'ennesima volta Le nostre mezz'ora Di video Io vi mando Un grande bacio Mettete un cavolo Di mi piace Perché mi stracate Sempre Sti mi piace Cioè Alla fine Ve lo devo dire Dai Non me le fate Di queste cose Scherzo dai Bacione Fate bravi Spippeggiate po' I love you Forza mulac Forza Jeffrey Dai Viamo Ciao baby Ciao baby